Cari amici, stasera io ho accanto a me un personaggio che mi emoziona moltissimo, è Joe Belli, il grande Joe Belli, il grande è diventato famosissimo innanzitutto come fotografo di moda, se andate a guardare Amica, lui ha creato le foto di moda di Amica, poi ha fatto foto di altri temi, io sono emozionato, ho Joe Belli accanto a me, Joe Belli ancora pimpante, giovanissimo e gritoso. Vorrei fare due modifiche, giovanile casomai, ringraziando già dell'aggettivo, e pimpante il tanto che si può, eccetera. Non mi sento famoso, perché la fama è come un profumo che ti segue nel momento in cui sei fiorito. Quando sei passato ogni tanto trovi qualcuno che si ricorda e ti ricorda qualche cosa che tu hai dimenticato. Io ho proprio la sensazione della mia, non è falsa modesta, della mia pochezza. L'epoca in cui lavoravo io era stata onorata da grandi fotografi, ricordo Barbieri, non ne cito altri che secondo me hanno una fama giusta, ma come dire, mutuata dal giornale per cui lavoravano. Se tu lavoravi per Vogue e avevi già dei gradi in più, anche se poi la foto, come mi insegni, è un'occasione nella quale tu puoi dare, e soprattutto nella foto di moda, come riesci, sei un po' regista, come riesci a far muovere le persone che stai fotografando. Questo vale soprattutto nei ritratti. Certo, ma sei certamente un po' regista, sei regista come fotografo e a un certo punto il primo tuo atto di regia è quello di selezionare la modella giusta da fotografare, no? Certo, se hai degli abiti da sera non puoi prendere una ragazzina sbalazzina e prendere una che c'è uno sguardo posato, un po' intenso, serio. Poi vabbè, le altre cose. Poi tutto il resto invece segue, segue come dire, una letteratura in proposito. Ecco, ma come ti sei avvicinato tu, andiamo agli inizi, come ti sei avvicinato tu alla foto di moda? Diciamo fortiter, casualmente. Cioè io ho fatto un percorso che poi, sai già, cioè classico, scuola di fotografia, e poi sono subito andato a lavorare la più grande agenzia d'Italia, credo. Si chiamava Farabola. Ah, sì, sì. L'agenzia Farabola, Tudio Farabola, dove c'erano eccellenti personaggi, reporter, eccetera. Nel frattempo ho conosciuto un personaggio grande, a cui intendo si chiamava Mario De Biasi, che era fatto anni e anni di foto per epoca, che allora era il giornale per eccellenza di reportage e giornalismo illustrato. Poi ho conosciuto altri, io però casualmente sono approdato alla cosa. Dunque un giorno mi trovavo in uno studio di un amico che mi aveva messo a disposizione. Dice, vieni pure, vieni pure, non preoccuparti, senza far pagare cose d'altri tempi. Sì. E c'è io che lavoravo e avevo fatto alcune foto in una piccola agenzia fotografica di moda, con la moglie del proprietario, Laura Guarino, una bella signora, allora era giovane, avrei avuto 25 anni, che mi ha insegnato, mi ha detto, metti le luci così, fai così. Quindi ho fatto quel servizio, ne ho fatti due o tre ancora, come si usava una volta, con le 10-12, formato che oramai... Un formato sì, che no. Esatto. Poi, quando un giorno, è passato di lì un fotoreporter, era una... Il fotoreporter di allora era dei personaggi da romanzo, erano personaggi veramente eccezionali, mi fa, ma scusa, tu hai delle foto di moda, ma ad amica cercano un fotografo, vai, vai, perché... Ah, sono andato là, non immaginando. E ho trovato, devo dirlo, un grande personaggio, che chiamava Guglielmo Zucconi. Ah, grandissimo, scusa, se io ho iniziato a fare il giornalista, è perché Guglielmo Zucconi mi ha dato l'opportunità, mi ha offerto l'opportunità di farlo. Grande personaggio del clan dei modenesi. clan dei modenesi, che allora era tutto, c'era un certo giro. Vabbè, ciò che però si sostenevano, era gente emiliana, insomma, non si scherza. E allora, che mi ha fatto un colloquio, e poi io non immaginavo che avrebbe avuto un seguito in presenza di due redattrici, e a un certo modo io mi arriva una telefonata, era lui, mi telefona Bombelli, perché il mio vero cognome è Bombelli, non De Plume, è Gio. Gio Belli, sì. E mi ha detto, vada, c'è da andare a fare un servizio in Sardegna, Sardegna, sì, troverai la Laura Montini, che era la moglie di un collega, aspetta, non mi ricordo come si chiamava, come si chiamava, mi verrà in mente, a Roma prendiamo l'aereo, eccetera. Divertente la cosa, abbiamo girato la Sardegna, abbiamo mangiato il formaggio con i vermi, ovviamente la redattrice, eh. E quando sono tornato, ovviamente la qualità delle immagini, 10-12, fatte ancora con la lampada, eccetera, hanno detto, no, questo non dobbiamo perderlo, e io c'ho a casa la lettere. E in cui si può lavorare per amica, aspetta, per amica, però con la possibilità di lavorare per la Domenica del Corriere. A me non interessava niente, però mi sono chiesa, ma perché la Domenica del Corriere? Due mesi dopo è andato a fare il direttore della Domenica del Corriere, capito? E io ho avuto la fortuna che lui fosse diventato direttore e poi mi chiamasse. E poi da lì ho cominciato anche delle collaborazioni con la Domenica del Corriere, ho fatto con Vittorio Franchini due o tre festival di Sanremo, dove ho visto, ho fatto con Cavicchioli, un altro modenese. Sì, certo, ma tu hai fotografato per la Domenica del Corriere Sua Santità, è stata un'esclusiva, no? Sì, sì, assicuro. Paolo VI. Paolo VI, che io avevo fotografato più volte nel d'Arcivescovado qui, perché Farabola era il fotografo arcivescovile, per cui andavo là a fotografarla quando riceveva la gente. E purtroppo lì è stata una delusione, perché speravo di poter dire Santità, prenda un... così mette a posto la Madonnina, per dare un po' di ricoso, e invece, non signor Capovilla, ma intimato, non si può rivolgere la parola alla sua Santità. E io figurati che sono un loquace, come puoi vedere, puoi sentire, e sono rimasto male, ho dovuto fare quello che ho potuto, ed è stata la prima e unica copertina fotografica della Domenica del Corriere. Sto cercando di recuperare almeno la foto, se non la foto, la foto della copertina. Zucconi ha tentato di farmi fare una seconda copertina, il confessionale, cioè che lì ero un po' orientato, eccetera, orientato non so se credessi. Sì, ma scusa, le copertine della Domenica del Corriere, poi sono diventate fotografiche molto, un po' più avanti, ecco, è stata, forse volevi dire che è stata la prima, la prima copertina fotografica, bisogna andare a trovarla e a ricercarla, perché è un... Sì, è una pietra. È una pietra miliare, ma tornando, tornando alla moda, dico, tra tante foto di moda che tu hai fatto, dico, ce n'è una o ce ne sono alcune di un genere in particolare che ti hanno emozionato di più, ti hanno, oppure tecnologicamente o fotograficamente, ti hanno dato le migliori soddisfazioni? Devo dire che l'emozione è venuta dopo a fronte di una reazione di terzi. Per quello che riguardava me, io ero un cavaliere a cavallo che andava dove doveva andare, magari col vento nei capelli, quelle cose lì, non pensavo di creare qualche cosa che potesse poi ridondare su di me. Lo faceva anche come divertimento, un divertimento, un gioco con la modella, a volte dovevi tenere distante le redattrici che tentavano di dirla loro e io non l'accettavo, ma non perché non fossero all'altezza, ma perché io stavo giocando. E certo, eri tu un giocatore, ti volevi divertire, esatto. No, ma tante, tante, tante fotografie, tante emozioni, tante belle donne che tu hai incontrato. Io ho visto, ho sfogliato velocemente per rammentare un po' la tua carriera fotografica, ho visto che a un certo punto hai fatto dei ritratti, ad esempio c'hai la Monica Bellucci. Sì, la Bellucci, la Nielsen, poi molte altre, l'ho fotografato la Mina, cioè tutti i personaggi dell'epoca e non ho le foto perché venivano ritirate. Ecco, ma all'epoca la fotografia era tecnologicamente, diciamo rispetto ad oggi, un po' arretrata, oppure bisognava, bisognava, ecco, facciamo un raffronto tra ieri ed oggi. Allora, ieri tu scrivevi una pagina che era la fotografia, perché la fotografia non è altro che un discorso riassunto, è riassunto per immagine appunto, dove tu esponi una serie di osservazioni che devono dare anche delle emozioni a chi guarda, cioè non è che sono... queste emozioni devi trasferirle, ma sono quelle che provi tu, cioè non pensi agli altri. Quindi a questo punto, quando io facevo le foto, seguivo solo un profumo, una cosa che è... Allora, la differenza tra la foto, diciamo il secondo stadio della foto, prima quello di cui parla Baudelaire, dove si scaglia contro i fotografi dell'epoca che si definivano artisti in quanto la fotografia allora riproduceva paesaggi così come li facevano i pittori dell'epoca. E li tratta malissimo, se vuoi puoi ti mando a leggere quello che dici. Ecco, poi c'è arrivata la seconda... cioè l'emulsione, le pellicole fotografiche, lo sviluppo della tecnica fotografica, dove per... è un po' come guidare un aereo. Cioè tu sei su un aereo e devi sapere che c'è l'umidità, il rifornimento, la giusta rotta da prendere. Oggi, cioè quindi tu avevi una penna con cui scrivere qualcosa. Oggi vedo che la tendenza invece è quella di queste persone con i telefonini oramai, perché pochi usano le macchine ancora. No, una pellicola c'è qualcosa ma non vale più. La pellicola richiedeva una conoscenza che oggi metterebbe in crisi molti di quelli che riproducono delle immagini. Oggi c'è questa facilità che anche un nonno vede il nipotino fa la foto. Hai capito? Cioè, mentre una volta il bello era costruito, era ricercato e costruito, oggi magari te lo trovi davanti. Sì, ma poi una volta diciamo esplodeva la genialità del fotografo, perché oggi come oggi con Photoshop, con tanti marchi ingegni, uno ha degli automatismi per ottenere degli effetti. Ma io ho visto delle sue fotografie in cui, non so, c'è una modella che sembra che tiene in mano un cuore che è disegnato, eccetera, ma come è stato realizzato questo cuore? Sì, sì, è realizzato con le macchine dell'epoca. Cioè, tu potevi lasciare aperto l'obiettivo, scattavi il flash e avevi la foto. Prima di scattare, disegnavi sul vetro della macchina la posizione della modella. Dopodiché lasciavi aperto l'obiettivo al buio e il tuo assistente andava dietro la modella e faceva o dei segni e dei segni, eccetera. Cosa che oggi non puoi più fare perché le macchine scatti e non hanno più forse neanche i tempi di esposizione perché è tutto automatizzato, eccetera. No, quello che devo dirti la difficoltà nella mia professione che ho girato veramente in lungo e in largo, cioè Brasile, Maldivia, Maurice, Canada, Stati Uniti, cioè Messico, Messico è stato un paese che mi ha affascinato più di altro, cioè l'Inghilterra, la Francia, cioè io ho girato molto, ma non da turista perché io non mi ricordo quasi niente, ecco, però quello che mi ricordo dei vari posti, per esempio quando sono andato in Brasile, sono partito da Milano, mi ricordo era febbraio, con mi pare 12 gradi sotto zero, sono arrivato là con 40 gradi e con un'umidità in cui i pesci viaggiavano nell'aria per dire, e dovevi lavorare, le modelle erano stanche, tu eri stanco, lo ti alzavi alle 5 del mattino tutti, cercando un po' di reprigeri, un po' di cosa, però anche in quel momento non dovevi subire le condizioni contrarie, cioè lì era una forma di preparazione come dire, fisica che ti viene col tempo, no, poi la bellezza era quando ti trovai di fronte a certe modelle, per esempio quella a cui ho dato in mano quella coppa che adesso ho a casa, ne ho diverse, le coppe con il satiro, eccetera, con la panna montata dentro e lei che prende questo atteggiamento di volutuosità, eccetera, con una partecipazione da attrice, perché quello che tu le dicevi lei capiva, e allora facevi anche un po' il regista, cioè tu avevi davi poco, certo, certo, davi poco, però facevi il regista, hai capito? Ed era lì il piacere, perché poi alla fine io vedevi le foto e dicevi caspita, certo, ma oggi tu continui a fotografare? Sì, ma faccio tutt'altro, cioè oramai non ho più modelle e ricerco una parte del tutto, perché nella parte del tutto è come se tu vedessi un segno e in oxigno ti ricordi? Vincere, vincere, avendo fatto le scuole eccetera, d'antan di un tempo, e dove l'istituto Gonzaga, tanto per dire una, un po' religioso, eccetera, quindi poi il latino era di base. Niente, quindi in quel segno lì tu ricostruisci una storia, quindi la lettura dei dettagli, delle cose che faccio, discende, se tu la esponi, la esponi a qualcuno che ha fatto le tue stesse letture, che ha condiviso anche magari una vita di grafica, di cose, eccetera, però adesso le faccio per me. Ecco, ma concludiamo con un consiglio che tu potresti dare a chi oggi ha un telefonino in mano e fa delle fotografie, per uscire fuori da questo automatismo, da questa specie di droga che devi scattare, scattare, prima di scattare. Certo, allora, quelli che scattano così perché seguono un impulso immediato, cioè vedono il bambino, il laghetto di montagna, invece io li invito a fare un'altra cosa, hai in mente una cosa, riproducila attraverso quello che hai di fronte, per far questo, leggiti delle belle pagine di letteratura, carica di quelle emozioni e alla fine ti troverai che una cosa che ti ricordi che hai letto ti suggerisce ti suggerisce quello che hai letto attraverso un'immagine che stai vedendo. Quindi ragazzi, non limitatevi a seguire pedissequamente, parola difficile, eccetera, seguire così l'istinto. L'istinto va controllato, va indirizzato e potete avere delle cose molto molto più belle. L'istinto migliora molto se si ha dietro una buona cultura. Ah, ma è chiaro che sì, che non è che io non ho, io ho letto molto. Ma visto quello che si dice di questi tempi che sembra che sia una colpa essere laureati, aver letto delle cose, eccetera. comunque, guarda, io dico leggere perché due ore in meno di televisione, due ore di lettura di libri importanti, ma andate anche sui latini, sui classici. Io sto leggendo per esempio adesso, scusami, Luciano di Samosata, dove ha dei racconti che sono, innanzitutto vedi che è gente come noi, assolutamente, e sono passati 1800 anni. con gli stessi problemi, eccetera. Cioè, la vita non è cambiata, sono cambiati i vestiti, le opportunità di fare, far male, e poco far bene, perché oramai non c'è più tanta chance. Comunque, ragazzi. Avete capito, amici miei? Avete capito? Giobelli, fotografo, uno dice, Giobelli, fotografo di moda, eccetera, eccetera. Avete capito che cosa c'è dietro un grande fotografo? Grazie Gio, grazie, arrivederci amici, arrivederci. Ciao. Applausi